Ciao a tutti ragazzi, sono Roberts94 o iPhone amatore e benvenuti a tutti quanti in questo nuovo, primo episodio dei cibi dal mondo, ma vai con la sigla! Bentornati ragazzi, bentornati a tutti quanti, oppure benvenuto, benvenuto a te che stai vedendo questo video per la prima volta, cioè questa serie per la prima volta. Se non hai visto i miei video precedenti, vattili a vedere, stanno tutti nel mio canale, nei miei due canali, uno si chiama Roberts94 e uno Roberts94 iPhone amatore, sì, sono mezzo matto, vedrai cose che tu neanche ti immagini. Ragazzi, ah che bello, questo qua sarà il primo episodio dopo tanto tempo dei cibi dal mondo. Questa volta vi ho portato un pacchetto di patatine, che in verità però non sono patatine, perché tu dici, adesso ve lo prendo eh, eccolo qua, tu dici, beh dai, sono patatine, al massimo sono patatine colorate. Eh no regà, perché se no io che cazzo dico i cibi dal mondo, perché queste qui non sono soltanto patatine, non sono soltanto patate, al suo interno ci sono cose che io penso di non aver mai neanche mangiato, quindi faremo vari test. Allora, ci saranno cinque tipi di patatine diverse, e ora ve le elenco, Parsnip, che ora sicuramente con Google Traduttore sono andato a tradurre questa cosa, e lo scrivo qui in basso a destra, così per ogni singola patatina, patatina. Quindi Parsnip, ecco qua la traduzione, regà io non la so perché non è che sto a vedere qualcosa che ho scritto, ho tradotto quello che è. Il taro, il taro, mamma mia regà, conosciutissimo il taro, una sweet potato, questa qui in teoria già dovrei saperla, una patata dolce, confermate lì nella traduzione, patata dolce, grazie. Lo yuca, lo yuca regà, lo yuca. E infine c'è la badata, che non è proprio una patata, è una patata un po' deforme perché non si chiama proprio patata, ma si chiama badata con la B. Queste qua sono le immagini, io spero che le vediate ragazzi, eccole qui. La Parsnip, il taro, la sweet potato, lo yuca e la badata. Sembra una patata detta con il raffreddore, quindi una badata. Allora, andiamo a leggere gli ingredienti, che cosa ci aspetterà? Prima di andare a leggere gli ingredienti, però logicamente non vi ho detto la cosa più importante, questo sacchetto di patatine, regà patatine, si chiama terra. Perché terra? Perché sono tutti quanti tuberi, i tuberi, che vengono dalla terra. Quindi qualsiasi cosa stava sotto terra, l'hanno presa e l'hanno ficcata dentro a sto pacchetto. Bene, e io me la vado a mangiare, benissimo. Allora, vediamo un attimo gli ingredienti. Quindi, logicamente vado a leggervi gli ingredienti in italiano, perché se no, se vado a leggere, che ne so, gli ingredienti in FI, non so manco... Ah no, FI è francese, sì, scusate. Passo all'italiano perché non sapevo neanche che lingua fosse questa qua. Ingredienti, chips vegetali esodici, ingredienti, tuberi assortiti in proporzione variabile 70%. Quindi, come detto prima, c'è una presenza di taro, la colocasia esculenta. Regà, no, non mi piace questa cosa qui. Stiamo diventando un po' troppo, un po' troppo scientifici su quegli nomi, eh. Il taro colorato rosso con succo di barbabietola rossa, quindi il taro, oltre a vicesolo, il nome già te mette paura, in più è stato colorato con la barbabietola rossa. La patata dolce, questa qua, ok, patata dolce, se sta. Patata dolce colorata con succo di barbabietola rossa. La barbabietola, regà, come angiografia, stava sempre in mezzo alle palle. La badata, la badata manioca e la pastinaca. Cioè, ma io, un bambino, no, che dice, compro le patatine, voglio andare a mangiare le patatine, ma poi, in realtà, sa quello che c'è qua dentro? Cioè, vabbè. Olio di semi, benissimo. Olio di colza, canola, olio di cartamo, olio di girasole. Sale marino, meno male, una cosa che più o meno si riconosce. Il sale marino, meno male. Ora, come sapete benissimo, il mio test si struttura in tre categorie o quattro, dipende adesso, mi sta venendo in mente adesso quale sia la quarta. Ma comunque, il primo è il test dell'odore, quello che andremo a fare proprio adesso. Il secondo è il gusto. Il terzo è la consistenza, cioè, se sono patatine, dovrebbero essere croccanti in questo caso. E quarto, come si presentano alla persona che le vede, perché, cioè, se tu me le fai vedere così, tutte colorate, tutte belle sgargianti, tu dici, lo apro e devono essere così. Regà, se seguite la mia serie, non è mai stato così in vita mia, mai, mai. Quindi, andiamo a fare il test dell'odore. Andiamo ad aprire, con molta calma, ma molta calma. Oh! Regà, è cala. Le patate si sono messe dentro tutte insieme, hanno detto, col cavolo che ci mangi. Ma porca trota, no? Aha, ah, regà. Ah, è mo' aperte, l'ha' mo' aperte. Sa di patatine fritte. E comunque, regà, prima che vi dico il sapore, questo è il pacchetto enorme. Le patatine stanno qui. Cioè, o se le sono mangiate prima e le hanno richiuso, oppure è una fregata, è una fregatura. Quindi, ritorniamo al test dell'odore. Sa di patatine fritte, cioè le patatine, le classiche patatine. Però è vero, sembra che sia un po' più dolce del normale. Quindi, io, mentre parlo con voi e mentre annuso, vedo un qualcosa di rosso proprio sgargiante. Proprio che tu, non so, lo metti sul bianco e sembra proprio sangue, sembra. Bene, ci ho pure sputato dentro mentre dicevo sta cosa, quindi, mezzo a tutto, mi sto miscuio. Non è che gli fa male. Andiamo a prendere la prima patatina. Cioè, era questa, regà, ma che sei matti? Quindi questa è la prima patatina. Andiamo a vedere che cosa è, perché è troppo facile, no? O è la batata, che la batata è stata fatta con il colorante rosso, o lo sweet potato. Penso che sia lo sweet potato. Penso che sia lo sweet potato perché sa un po' di zuccherino. Si presenta in un modo molto, ehm, un po' così e così, regà. Non, non, non tanto bene si presenta. Sembra carne essiccata, ma essiccata male. Con un po' di cose al centro, adesso non so se lo vedete, regà. Cerco di riprendervi il più bene possibile. Vabbè, bando alle ciance, andiamo ad assaggiare questa prima batata o patata dolce. Questa prima batata o patata dolce, in bocca, si presenta molto bene. È molto buona, ma visto che non voglio mangiarmi tutta questa batata dolce, la appoggio qua un attimino. Con questa ci siamo. Posso dire che è buona, se è la batata dolce. Penso di sì, però. Andiamo a prendere un'altra cosa. Che cosa sia questa qua? Non lo so. Forse il parsnip? Penso o lo yuka? O il taro? Ma che ne so io, regà. Questa si presenta un po' accartocciata, ma comunque vediamo subito. Questa ha un sapore di cartone. Voi lo mettete nell'olio di frittura, si frigge, diventa bello croccantello, bello scrocchiarello. E poi ve lo mangiate. Quindi il cartone, bello scrocchiarello, non sa de' niente. Sa de' cartone. Quindi non sa de' niente questo. Altra prova, altro test. Eccola. Questa mi sa che è la batata dolce. Quindi questa qui, la batata, la batata era questa qui. Perché questa qua potrebbe essere appunto la sweet potato. Andiamo con il color giallo canarino. No, vabbè, un po' più arancione. E andiamo a vedere che cosa mi dice all'interno della mia bocca. Mi ha cascato un pezzettino. Guardate come si fa. Perfetto. Questa regà è molto buona. Non so se dal microfono si sente quanto scrocchiarella. Ma è ottima questa qui, davvero. Non so cosa sei, ma sei buona. Sei molto buona. Ma penso che è rimasto qualcosa... No, questa qua mi sa che è la stessa di prima. La lasciamo qui in attesa che lei mi dica chi è. La sua vera identità. Mi manca questa qui. Questa qua mi sa che è la... Questa qua è la parsnip. Ma perché io mi devo fare queste domande? Però penso di sì. Perché è un tubero. Non so se lo vedete. A parte che qua ci sono, diciamo, bolle di dubbia provenienza. Però vedete, qui ci sono praticamente dei cerchi. Quindi è come se fosse un tronco tagliato. Mentre la patata non ha questa cosa. Perché la patata è tutto un tubero insieme. Non è che ha un centro. Invece questa qua sembra appunto un tubero tagliato a metà. E questa qui è la fettina. Quindi penso che sia il parsnip. Andiamo a provare il parsnip. O lo yuka però. Anche lo yuka. Chi lo sa. Raga, mi sta a sfasciare i denti sto coso. Ma che cazzo rollo ci mettete dentro? Asfalto. Che è? Raga, non so se lo sentite dal microfono, ma me... Porca cazzozza. Mi ha rotto i denti, mi ha rotto. Tranquillo parsnip. Bene. Vediamo un attimo se c'è qualcos'altro di buono. Questa qui penso di averla mangiata. Penso che sia questa qui. Penso di averla mangiata. O è un po' più chiara o è un po' più scura. Questa, raga, è buonissima. Questa può essere... No. Boh, sembrano tutte uguali, raga. Ma che cazzo rollo ne so io. Un'altra badata rossa. Beh, raga, penso che comunque le ho assaggiate tutte. Erano cinque. Penso... Allora, ricapitolando. La badata rossa. Questo qui che penso che era il yuka. La sweet potato. Che era questa qui. Almeno credo. O era... Questa qui era lo yuka. Ma che cazzo, non ne so. Comunque, quindi siamo a tre. Quattro con la badata dolce. Ah, sì, questa qui era la badata dolce. La sweet potato. Quindi, ricapitolando. Qui ho quattro elementi. Me ne manca uno. E penso che sia quello che ho appena mangiato. Quello che mi ha sfasciato i denti. Perché non c'è... Ma ce ne sta pochissimo di questa cosa qua. Non c'è un'altra cosa biancastra. Forse questa, regà. Che dite? Sembra un po' più diversa da queste altre. Eccola, eccola. Eccola, eccola. Questa qui che c'ha tipo una specie di malattia. E c'ha tipo tutta roba rossa addosso. Eccoli qua, ragazzi. Questi qua sono i cinque tipi di patatine che mi sono andato a mangiare ora. Quindi, questo qui dovrebbe essere lo yuka. Questo qua lo yuka. Questa qua dovrebbe essere la badata. Però la badata colorata con della barbietola rossa. Oh, dolce. Questo invece dovrebbe essere il taro. Penso che sia il taro. Infatti è una... Anche questa è una specie di tubero. Quindi il taro è questo qua. Potrei sbagliarmi benissimo. Ve lo ricordo. Questa la badata dolce. Perché secondo me questa qui sa di badata. No, sa di patata, scusate. Patata dolce. Colorata un po' di barbietola rossa. Perché, giustamente, se ci metti un po' di barbietola in mezzo, che cazzo non la fai? E questo qui è il parsnip. Quello che praticamente ci hanno infilato dentro un po' di asfalto cemento. E poi te la danno da mangiare dentro questo sacchetto di patatine. Io sto oliando praticamente tutto il tavolo. Grazie, grazie, Ikea che fai i tavoli che assorbono l'olio. Ragazzi, questo qui era il primo episodio di Cibi del Mondo. Spero che vi sia piaciuto come inizio. Regà, state tranquilli perché io ogni domenica faccio un episodio di Cibi del Mondo. Lo so, tanti diranno, eh no, ogni domenica è troppo poco. Cercherò di farne uno, un altro di più a settimana. Però, regà, se non ho la roba da mangiare, finora non posso fare chissà che. Io spero che vi sia piaciuto questo primo episodio. Se l'hai visto tu per la prima volta che non hai visto, ripeto, nessun episodio precedente a questo, vatti lì a vedere. Ti ammazzi dalle risate perché una volta grebo, una volta... Beh, non è che grebo, sennò non stavo qua. Una volta mi sento male, una volta c'è stata roba che veramente faceva schifo. Una volta ho mangiato una seppia, una seppia fritta, versione patatina. Tante cose, regà, ho mangiato tante cose schifose e stranamente sto ancora qui. Non so il perché, non so come mai. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, iscriviti se non sei ancora iscritto. Saluto tutti i miei iscritti che sono, diciamo, pazzi per questa serie. Infatti l'ho fatto solo per loro. Ragazzi, io vi saluto e spero che ci rivediamo in un prossimo video o in un prossimo video di Cibi dal Mondo. Quindi un saluto dall'Operso94 o iPhone amatore. Qui c'è una mosca che vuole mangiarsi tutte le mie patatine, ma io queste qua... A tronco gliele do volentieri che stanno soltanto de cemento. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ragazzi, aspettate, prima che finisce il video, qua sotto c'è il tasto condividi. Se siete su Facebook, fatemi sto grande favore. Per favore, cliccate qua sotto condividi. Poi il simbolo di Facebook e poi scrivete quello che volete. Mandatemi su Facebook. Cerco di espandere questa cosa di Cibi dal Mondo in tutte le parti del mondo appunto. Così almeno la gente magari vede questa cosa qua e dice la voglio assaggiare. Benissimo, sarò molto lieto di incontrarvi e darvi queste patatine. Ciao a tutti ragazzi.